Buonasera, questa serata è dedicata a una scrittrice italiana che se fosse qui avrebbe appena compiuto 100 anni, era nata nel 1916, è morta 25 anni fa, si chiamava Natalia Ginzburg ed è stata una delle grandi scrittrici del secondo novecento italiano, era nata come Natalia Levi, questo è il suo nome di battesimo, ha cominciato a scrivere poco più che sedicenne sulle riviste come capita a tutti gli scrittori, l'incontro fondamentale della sua vita è stato quello con l'uomo da cui poi ha preso il cognome e l'ha tenuto per tutti i suoi libri, per tutto il suo percorso letterario, Leone Ginzburg, uno degli intellettuali antifascisti più importanti della Torino di quegli anni, Leone Ginzburg muore nelle carceri di Regina Celi nel 1944 per il suo attivismo antifascista e Natalia Ginzburg porta le tracce, le ferite di questo fatto, di questo evento drammatico a cui dedica uno dei suoi testi più belli che si intitola Inverno in Abruzzo e parla dell'esilio che precedette appunto l'arresto, la cattura di Leone e la sua morte nelle carceri di Roma. Natalia Ginzburg è stata vicina molto molto presto all'ambiente non solo antifascista ma dell'intellettualità torinese, i suoi grandi amici di una vita sono stati Cesare Pavese e Italo Calvino, è cresciuta con loro, ha costruito quella che poi sarebbe diventata la grande casa editrice Einaudi, è stata un editor tra le più severe, si è presa responsabilità anche molto grandi, scegliendo o non scegliendo libri. Probabilmente questa sua fisionomia intellettuale è anche un po' schiacciato la scrittrice che invece era una scrittrice con una voce assolutamente originale, capita probabilmente poco e tardi quello che è più straordinario è la sua capacità di mettere a fuoco libro dopo libro non solo la complessità dei rapporti familiari che resta il punto d'osservazione da cui guarda il mondo, che racconti la famiglia di Manzoni, la famiglia di Alessandro Manzoni in un romanzo che appunto si chiama la famiglia Manzoni o che racconti le famiglie della borghesia torinese di quegli anni e la sua stessa famiglia, come tutti sapete il suo libro più famoso, il più letto nelle scuole, un vero e proprio best seller che vinse il premio strega e il lessico familiare con quel GL che addirittura modificava nella percezione un aggettivo e questa era la traccia che lasciava anche sul lessico della letteratura Natalia Ginzburg, aveva un modo particolare di girare le frasi, di farle suonare, lei stessa in un racconto che si intitola Il mio mestiere dice di essere stata una donna sempre pressata, premuta dall'inadeguatezza e l'unico momento in cui si sentiva davvero libera, davvero se stessa era il momento in cui scriveva qualcosa, ha scritto molte storie, ha scritto racconti, ha scritto romanzi, romanzi che hanno avuto una ecocritica consistente che è cresciuta nel tempo e probabilmente come dicevo però nel canone è entrata tardi e poco anche forse per i riflessi di una certa misoginia della critica letteraria italiana, fatto è che comunque è una scrittrice che troneggia nella letteratura italiana del secondo novecento e stiamo per ascoltare una lettura condensata di uno dei romanzi più belli di Natalia Ginzburg, questo romanzo è uscito nel 1973, si intitola Caro Michele ed è la storia di un ragazzo che aveva vent'anni nei primi anni settanta, si chiama appunto Michele, tutta la sua vicenda, la sua vicenda sentimentale, la sua vicenda umana, il suo sfiorare e anche il tempo storico che stava attraversando in un modo perfino drammatico è raccontata attraverso le lettere che vengono spedite a Michele dalle persone della sua vita, sua madre, sua sorella, una ex fidanzata, tutto questo naturalmente crea l'intreccio appunto che è un intreccio in cui si moltiplicano i punti di vista sulla stessa vicenda e la voce stessa di Michele è presente ed è il filo conduttore di questa storia per lampi, per tessere, con un piccolo elemento che voglio sottolineare, una sorta di pietà spietata verso l'esistente, la capacità di infilzare i difetti più che i pregi di qualunque essere umano, di mettere a fuoco anche soltanto con un accento qualcosa che appunto rende unico e sempre imperfetto qualunque essere umano e a dare voce a questa storia, è l'occasione nata da una passione per questo libro, per questa autrice ma anche da una lettura in forma di audiolibro, ecco a dare voce a questa storia uno dei protagonisti, dei grandi registri del cinema italiano, Nanni Moretti. Grazie. Scusate, berrò spesso perché ho un problema e ne ho bisogno. Questa lettura durerà circa 40 minuti, dopo Paolo Di Paolo dirà ancora qualcosa su Natalia Ginzburg ed io finirò con una lettura molto più breve, 8-9 minuti sulla mia psicoanalisi, così si chiama quel raccontino di Natalia Ginzburg. Grazie. Caro Michele, ti scrivo soprattutto per dirti che tuo padre sta male, vai a trovarlo, dice che non ti vede da molti giorni. Io ci sono andata ieri, era il primo giovedì del mese, lo aspettavo da Canova e lì mi ha telefonato il cameriere che lui stava male, così sono salita su. Era a letto, mi è sembrato molto sciupato, ha le borse sotto gli occhi e un brutto colore, ha dolori alla bocca dello stomaco, non mangia più niente, naturalmente continua a fumare. Quando vai a trovarlo, non portare lì le tue solite 25 paia di calzini sporchi. Quel cameriere che si chiama Enrico o Federico, non mi ricordo, non è in grado di sopportare il peso della tua biancheria sporca in questo momento. È stranito e intontito. Non dorme la notte perché tuo padre chiama. In più è la prima volta che fa il cameriere perché prima lavorava in un elettrauto. In più è un completo cretino. Se hai molta biancheria sporca, portala da me. Ho una donna di servizio che si chiama Cloti. È venuta cinque giorni fa. Non è simpatica. Siccome il muso ce l'ha sempre e la situazione con lei è già pericolante, se tu arrivi qui con una valigia di roba da lavare e stirare non me ne importa molto. E puoi farlo. Ti ricordo però che esistono buone lavanderie anche lì vicino allo scantinato dove tu vivi. E tu sei in età di occuparti di te stesso da solo. Tra poco avrai ventidue anni. A proposito, oggi è il mio compleanno. Le gemelle mi hanno regalato delle pantofole, però io sono troppo affezionata alle mie vecchie pantofole. Volevo ancora dirti che se ti lavassi da te ogni sera fazzoletto e calze, invece di ammucchiarli sporchi sotto il tuo letto per settimane sarebbe bello, ma questo non mi è mai riuscito di fartelo capire. Io ho aspettato il medico. È un certo povo o covo, non ho ben capito. Abita al piano di sopra. Cosa pensa della malattia di tuo padre? Non l'ho capito. Dice che è all'ulcera, e questo lo sapevamo. Dice che bisognerebbe portarlo in una clinica, ma tuo padre non vuole saperne. Forse pensi che io dovrei trasferirmi in casa di tuo padre e assisterlo. Anch'io la penso in qualche momento, ma credo che non lo farò. Ho paura delle malattie. Ho paura delle malattie degli altri. Delle mie no, ma io però non ho mai avuto grandi malattie. Quando mio padre aveva la diverticolite ho fatto un viaggio in Olanda, ma lo sapevo benissimo che non era diverticolite, era cancro. Così quando è morto non c'ero, ne ho rimorso. Ma è vero che a un certo punto della nostra vita i rimorsi li insuppiamo nel caffè la mattina, come biscotti. Poi, se io arrivassi lì domani con la mia valigia, non so tuo padre che reazione avrebbe. Da molti anni è diventato timido con me. Anch'io con lui sono diventata timida. non c'è niente di peggio della timidezza tra due persone che si sono detestate. Non riescono a dirsi più niente. Sono grate una all'altra di non ferire e non graffiare, ma una simile specie di gratitudine non trova la strada delle parole. Dopo la nostra separazione, tuo padre e io abbiamo preso quella noiosa e civile abitudine di incontrarci a prendere il tè da canova ogni primo giovedì del mese. Era un'abitudine che non assomigliava né a lui né a me. Ce l'aveva consigliato quel suo cugino Lillino che fa l'avvocato a Mantua e lui quel suo cugino lo ascolta sempre. Secondo suo cugino noi due dovevamo mantenere dei rapporti corretti e incontrarci ogni tanto per discutere dei comuni interessi. Però quelle ore che passavamo da canova erano un tormento. Ma perché spostate in consiglio? State più buoni con quella macchina, con quella telecamera. Però quelle ore che passavano da canova erano un tormento per tuo padre e per me. Siccome tuo padre è una persona metodica nel suo disordine, aveva stabilito che dovevamo restare a quel tavolino dalle cinque alle sette e mezzo. Ogni tanto sospirava e guardava l'orologio e questa era per me un'umiliazione. Se ne stava sdraiato all'indietro sulla sedia e si grattava la sua testaccia nera scompigliata. Mi sembrava una vecchia pantera stanca. Parlavamo di voi. Però a lui delle tue sorelle non gliene importa niente. La sua stella sei tu. Da quando tu esisti si è cacciato in testa che sei l'unica cosa al mondo che sia degna di tenerezza e di venerazione. Parlavamo di te. Ma lui diceva subito che io di te non avevo mai capito niente e che lui solo ti conosce a fondo. Così il discorso era chiuso. Avevamo una tale paura di contraddirci che ogni argomento ci sembrava pericoloso e lo buttavamo via. Voi lo sapevate che noi ci incontravamo lì quei pomeriggi, ma non sapevate che a consigliarcelo era stato quel suo maledetto cugino. Mi accorgo che ho usato l'imperfetto, ma in verità penso che tuo padre stia molto male e che non ci incontreremo mai più da Canova ogni primo giovedì del mese. Caro Michele, ieri sera è venuto Svaldo e mi ha detto che sei partito per Londra. Sono rimasta sbalordita e stravolta. Osvaldo ha detto che ti sei affacciato un momento da tuo padre per dargli un saluto, ma dormiva. Ti sei affacciato. Cosa vuol dire che ti sei affacciato? Forse tu non ti sei reso conto che tuo padre sta così male. Quel povo o covo ha detto che oggi deve entrare in clinica. Ti servivano camice e roba di lana. Osvaldo dice che pensi di rimanere là per tutto l'inverno. Mi potevi dare un colpo di telefono. Mi chiamavi al posto pubblico in paese come hai fatto altre volte. Certo, se non mi mettono il telefono qui impazzirò. Sarei venuto all'aeroporto e ti avrei portato dei vestiti. Osvaldo dice che sei partito con i calzoni di fustagno e la maglia rossa e niente o quasi niente per cambiarti. Tutta la tua biancheria, dice Osvaldo, pulita e sporca è rimasta nello scantinato. Non si ricordava se avevi il Loden o se non lo avevi. Tutta un tratto si è ricordato che lo avevi. Questo mi ha dato un poco di conforto. Dice che gli sei capitato in casa la mattina presto. Secondo lui l'idea di partire per Londra e frequentare lì una scuola di scultura era un'idea che tu macinavi da un pezzo. Ti scrivo a questo indirizzo che mi ha dato Osvaldo, ma lui dice che è provvisorio. Il fatto che Osvaldo conosca un poco questa signora anziana che ti dà la stanza mi rassicura un poco, ma pochissimo. Non devi credere che io non abbia capito che la tua è stata una fuga. Idiota io non sono. Ti prego scrivimi subito e spiegami chiaro da cosa volevi fuggire o da chi. Osvaldo non è stato chiaro o non voleva dirmelo o non lo sapeva. Caro Michele, ricevo ora la tua breve lettera. Non so cosa ti abbia impedito di venire giù quando è morto tuo padre. Non riesco a immaginare niente che possa impedire a una persona di ritornare quando c'è una disgrazia. Non capisco. Mi domando se verrai giù quando io morirò. Sì, ai vari parenti abbiamo detto che eri a Londra, con la polmonite. Che tu vada nel Sussex io sono contenta. Ci deve essere un'aria molto buona e io sono sempre contenta quando so che siete in campagna. Quando eravate piccoli mi ammazzavo di noia nelle villeggiature per mesi e mesi, pensando che ogni giorno di più in campagna era un beneficio per voi. Dopo, quando tu sei rimasto con tuo padre impazzivo all'idea che tante volte lui ti faceva stare a Roma in piena estate. Lui non amava la campagna e amava solo il mare. Ti mandava la mattina a Ostia con la donna di servizio e diceva che andava bene così. Non mi dici se devi anche cucinare per questo professore di glottologia. Scrivimi se devi cucinare e ti manderò delle ricette. Matilde ha un grosso quaderno dove incolla tutte le ricette che trova sui giornali e sui calendari. Tu mi dai il tuo numero di telefono nel Sussex, ma dovrei telefonarti dal posto pubblico perché ancora non mi hanno messo il telefono. Il posto pubblico è un'osteria, è sempre pieno di gente. Io ho paura di mettermi a piangere se ti telefono. Lì non è un posto adatto per telefonare e piangere. La morte di tuo padre mi ha colpito duramente. Io adesso mi sento molto più sola. Non mi dava nessun appoggio perché non si interessava a me, non si interessava nemmeno alle tue sorelle, gli importava solo di te. Il suo affetto per te sembrava rivolto non a te, ma a un'altra persona che si era inventato e che non ti rassomigliava a niente. Non so spiegarti perché mi sento più sola da quando è morto. Forse perché avevamo in comune delle memorie. Queste memorie le avevamo solo io e lui al mondo. È vero che non usavamo farne parola quando ci incontravamo, però mi rendo conto adesso che non era necessario farne parola. Esse erano presenti in quelle ore che passavamo al caffè Canova e che io trovavo oppressive e interminabili. non erano memorie felici perché io e tuo padre non siamo stati mai molto felici insieme e anche se siamo stati brevemente e raramente felici tutto poi è stato sporcato, calpestato e travolto. Ma non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita ci si accorge che si amano le memorie. Ti sembrerà strano ma io non potrò più entrare al caffè Canova perché se entrassi là mi metterei a singhiozzare come una cretina e se sono sicura di una cosa è che non voglio piangere davanti alla gente. Leeds, 13 febbraio 71. Cara Angelica, ti scrivo una cosa che forse ti lascerà stupita. Mi sposo. Ti prego di andare all'agenzia di piazza San Silvestro e richiedere i documenti necessari. Non so quali documenti ci vogliono. Mi sposo appena avrò i documenti. Sposo una ragazza che ho conosciuto a Leeds. Veramente non è una ragazza perché è divorziata con due bambini. È americana. Insegna fisica nucleare. I bambini sono carini. Io amo i bambini. Non quelli molto piccoli ma quelli che hanno 6 o 7 anni. Come questi qua. Li trovo molto divertenti. Non ti sto a raccontare com'è questa ragazza che sposerò. Ha 30 anni. Non è bella. Ha gli occhiali. È molto intelligente. Io amo l'intelligenza. Sembra che riuscirò ad avere un lavoro. Cercano un insegnante d'italiano in un collegio di ragazze, sempre qui a Leeds. Sinora ho lavato i piatti in un altro collegio dove insegnava la ragazza con cui ero venuto, Josephine. Potete scrivermi ancora presso la madre di Josephine. Non ho ancora un appartamento ma lo cerco. Aileen, questa ragazza che sposo, vive con i suoi genitori e i bambini e la casa è piccola. non c'è posto per me. Ho una stanza in una pensione di cui non vi do l'indirizzo perché cambierò. Forse scriverò anche alla mamma, però intanto comincia a dirglielo tu. Diglielo lentamente perché sono di quelle notizie che la sconvolgono. Dille di stare tranquilla perché ho riflettuto. Forse verremo in Italia nelle vacanze di Pasqua e così potrete conoscere Aileen e i bambini. Ti abbraccio. Velocemente mandami documenti, Michele. Caro Michele, Angelica è qui da me e mi dice che ti sposi. Mi dice che tu le hai detto di fermelo lentamente in modo da non sconvolgermi. Me l'ha detto invece rapidamente e subito, appena entrata nella stanza. Angelica mi conosce meglio di te. Sa che io sono così perennemente sconvolta che niente mi sconvolge più. Ti sembrerà strano? Ma io non mi stupisco e non mi spavento più di niente, essendo in uno stato perenne di spavento e di stupore. Da dieci giorni sono a letto malata, per questo non ti ho più scritto. Ho chiamato il dottor Bovo, quel medico di tuo padre che abita a via San Sebastianello al quarto piano. Ho una pleurite. mi sembra immensamente strano scrivere ho una pleurite, perché non ho mai avuto niente nella mia vita e mi sono sempre considerata fortissima. Ad ammalarsi erano sempre gli altri. Angelica mi ha fatto leggere la tua lettera. Alcune frasi di questa lettera mi hanno stupito, benché io sia, come ti ho detto, ormai essenzialmente immune allo stupore. Io amo l'intelligenza. Io amo i bambini. A dirti il vero ignoravo che tu amassi l'intelligenza e i bambini. Queste frasi mi hanno lasciato però un'impressione fondamentalmente positiva, come se tu finalmente cercassi di raggiungere la chiarezza e la risolutezza, come se tu finalmente cercassi di fare delle scelte definitive. Mi rallegro di vederti a Pasqua e di poter conoscere tua moglie e questi i suoi bambini. La prospettiva di avere dei bambini in casa mi affatica al solo pensarci, ma siccome ti rivedrò, vi accoglierò tutti con grande gioia. Il fatto che questa donna che tu sposi abbia 30 anni non mi sembra un fatto negativo. Tu evidentemente hai bisogno di aver vicino una donna più vecchia di te. Hai bisogno di affetto materno. Questo perché quando eri piccolo tuo padre ti ha tolto a me. Dio lo perdoni se esiste Dio, cosa che forse non è del tutto da escludere. Penso certe volte quanto poco insieme siamo stati, tu e io, e quanto male ci conosciamo, quanto superficialmente tu mi giudichi e io ti giudico. Io ti trovo tanto balordo, ma non lo so se veramente sei balordo o invece oscuramente savio. Caro Angelica, ho avuto i documenti e ti ringrazio. Mi sono sposato mercoledì. Ho saputo che la mamma è malata e me ne dispiace. Spero che non sia niente di molto serio. Aileen e io abbiamo trovato una piccola casa a due piani in questa Nelson Road che è una strada sterminata di casette tutte identiche. Abbiamo due metri di giardino che io coltiverò a rose. Ringrazia la mamma per i denari, le camicie e il vestito scuro che non ho messo il giorno del matrimonio né mai metterò. L'ho appeso nell'armadio con naftalina. Aline va all'università il mattino presto e accompagna a scuola i bambini. Io esco un poco più tardi, metto la casa in ordine, sciacquo i piatti della colazione e passo il rullo sulla moquette. Ho saputo che Viola ed Elio volevano venire al mio matrimonio. L'ho saputo da quel solito parente della signora Peroni che mi sono visto capitare alla pensione dove stavo fino all'altro ieri. Per fortuna non sono venuti, per fortuna non è venuto nessuno di voi. Io non è che non ho voglia di rivedervi. Vi rivedrei tutti molto volentieri. Ma per il matrimonio abbiamo fatto le cose così in fretta e senza darci peso che Viola ed Elio e anche voi, se foste venuti, sareste forse rimasti delusi. Dio a Oreste che mia moglie è iscritta al Partito Comunista, è uno dei pochissimi comunisti che ci sono qui. Io continuo a non essere comunista, continuo a non essere niente e ho perso i contatti con quegli amici che avevo a Roma e non so più niente di loro. Pensare che sono partito anche per ragioni politiche, non solo per quello ma anche. Ma non mi sarebbe facile dire perché sono partito. Comunque ora non mi occupo di politica, se ne occupa mia moglie e questo mi basta. Mi servirebbe un libro, la critica della ragione pura di Kant. Vedi se puoi andarlo a cercare nel mio scantinato. Ammesso che lo scantinato ancora esista e che possa ancora chiamarsi mio. Ti abbraccio, Michele. Caro Michele, Angelica mi ha detto che non verrai per le vacanze di Pasqua. Pazienza. Ormai le volte che ho detto pazienza, pensando a te, sono infinite. E' vero che più passano gli anni e più si accrescono le risorse della nostra pazienza. Tutte le altre tendono a prosciugarsi. Sono le sole nostre risorse che si accrescono. Avevo messo in ordine le due stanze all'ultimo piano. Avevo preparato i letti e appeso gli asciugamani nel bagno. Il bagno all'ultimo piano è il più bello della casa, con le maioliche ad arabeschi verdi. E nel guardarlo ero contenta che lo vedesse tua moglie. Le stanze sono ancora là in perfetto ordine, con i letti pronti. Io non ci sono più entrata. Dirò a Cloti di tornare e di sfare i letti. Mentre preparavo quelle due stanze, pensavo che tua moglie si sarebbe sentita a suo agio e anche pensavo che avrebbe trovato che io tengo bene la casa. Erano però due pensieri stupidi. Perché io non conosco tua moglie. Non so quando e dove si sente a suo agio. E non so se è di quelli a cui piacciono le case tenute in ordine e le persone che tengono in ordine le case. Angelica mi ha detto che invece te ne vai a Bruges. Io non mi chiedo cosa vai a fare a Bruges. Perché ormai ho smesso di chiedermi cosa vai a fare in un luogo o nell'altro. Io cerco di immaginarmi, in un luogo o nell'altro, la tua vita. Però nello stesso tempo sento che la tua vita è diversa da come immagino. E così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fiacca nell'intrecciare i suoi arabeschi sopra di te. Quando starò meglio di salute, vorrei venire a trovarti con Angelica, se questo ti fa piacere. Non verremmo a stare a casa vostra, perché non voglio dare fastidio a tua moglie, che penso abbia sempre molto da fare. Andremo in albergo. Io non amo i viaggi e non amo nemmeno gli alberghi, però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio, occupando spazio in una casa piccola, perché una delle pochissime cose che so di voi è che avete una casa piccola. Non posso partire adesso, perché non sono ancora guarita bene da quella pleurite, cioè non ho più la pleurite, ma il medico dice che devo ancora usarmi dei riguardi. Ha anche trovato che ho il cuore in disordine. Tu spiega a tua moglie che io sono una che ha la casa in ordine e il cuore in disordine. Spiegale come sono, perché così quando mi vedrà potrà confrontare la mia vera immagine con le tue descrizioni. È uno dei rari piaceri che ci offre la vita, confrontare le descrizioni degli altri con le nostre fantasie e poi con la realtà. A tua moglie io penso spesso e cerco di immaginarla, anche se tu non ti sei curato di descriverla. E quella fotografia di lei che mi hai mandato quando hai scritto che ti sposavi è piccola e confusa. La guardo spesso, ma non riesco a vedere niente salvo un lungo impermeabile nero e una testa avvolta in un foulard. A me non scrivi mai, ma sono contenta che scrivi ad Angelica. Penso che ti viene più naturale di scrivere a lei, perché con lei hai più confidenza che con me. Forse sono ottimista, ma penso che rivolgendoti a lei ti rivolgi segretamente anche a me. Per me Angelica è molto intelligente e io credo che sia la più intelligente di tutti voi, benché giudicare dell'intelligenza dei propri figli sia una cosa difficile. Tu e Osvaldo eravate amici e io molto raramente ho avuto il bene di conoscere un tuo amico. Perciò a volte lo interrogo su di te, ma le sue risposte alle mie domande su di te sono piene di una fredda serenità che rassomiglia a quella di Angelica quando le chiedo se le cose le vanno bene e se è felice. Ho l'impressione che anche Osvaldo voglia risparmiarmi delle preoccupazioni. In sua assenza mi capita di detestarlo, ricordando la sua voce calma e le sue risposte così serene e sfuggenti. Ma quando lui è qui me ne sto quieta e accetto i suoi silenzi e le sue sfuggenti risposte. Mi è venuta con gli anni una sorta di mansuetudine e di rassegnazione. L'altro giorno mi sono ricordato di una volta che sei venuto qui e appena venuto ti sei messo a frugare in tutti gli armadi alla ricerca di un tappeto sardo che volevi appendere al muro nel tuo scantinato. Doveva essere l'ultima volta che ti ho visto. Io ero in questa casa da pochi giorni, era novembre. Gironzolavi nelle stanze e frugavi in tutti gli armadi che erano appena stati messi a posto e io ti andavo dietro lamentandomi perché portavi sempre via i miei oggetti. Quel tappeto sardo devi averlo poi trovato e preso perché qui non c'è. Non c'era nemmeno nello scantinato. A me comunque di quel tappeto non me ne importa niente e non me ne importava niente allora. Lo ricordo perché è forse legato all'ultima volta che io ti ho visto. Ricordo che provavo nell'arrabbiarmi e nel protestare con te una grande allegria. Sapevo che le mie proteste avrebbero suscitato in te allegria e noia mescolate. Penso ora che quello era un giorno felice. Ma purtroppo è raro riconoscere i momenti felici mentre li stiamo vivendo. Noi riconosciamo di solito solo a distanza di tempo. La felicità era per me protestare e per te frugare nei miei armadi. Ma devo anche dire che abbiamo perduto quel giorno un tempo prezioso. Avremmo potuto metterci seduti e interrogarci vicendevolmente su cose essenziali. Saremmo stati probabilmente meno felici. Anzi saremmo stati forse infelicissimi. Però io adesso mi ricorderei quel giorno non come un vago giorno felice ma come un giorno veritiero ed essenziale per me e per te. destinato a illuminare la tua e la mia persona che sempre si sono scambiate parole di natura deteriore. Non mai parole chiare e necessarie ma invece parole grigie, bonarie, fluttuanti e inutili. Ti abbraccio tua madre. Cara Angelica, sono un amico di Aileen e Michele. Ho conosciuto Michele in un cine club. Mi ha portato qualche volta a cena a casa sua. Così ho conosciuto anche Aileen. Sono italiano e mi trovo a Leeds con una borsa di studio. Ho avuto il tuo indirizzo da Michele. Mi aveva detto che ti venissi a trovare se tornavo in Italia nell'estate. Ti scrivo per farti sapere che tuo fratello ha lasciato la moglie ed è partito per destinazione ignota. La moglie non ti scrive. Primo perché non sa quasi niente l'italiano. Secondo perché sta molto male di spirito. mi fa una gran pena anche se non mi sento di giudicare Michele e anche lui mi faceva pena quando andavo a trovarlo qui nella pensione molto sporca dove si era cacciato. Aileen vuole che io vi avverta che Michele se n'è andato. Primo perché non sa se lui stesso vi aveva informati del fatto che il loro matrimonio era andato per aria. Secondo perché Michele è partito senza lasciare indirizzo. Terzo perché partendo ha lasciato qui diversi debiti. Lei non intende pagare questi debiti e vi prega di pagarli voi. Michele ha lasciato di debito 300 sterline. Aileen chiede di farle avere queste 300 sterline se possibile subito. Ermanno Giustiniani, Lincoln Road 4, Leeds. Cara Amara Le scrivo per darle una notizia dolorosa. Mio fratello Michele è morto a Bruges in un corteo di studenti. È venuto alla polizia e li hanno dispersi. Lui è stato inseguito da un gruppo di fascisti e uno di questi gli ha dato una coltellata. Sembra che lo conoscessero. La strada era deserta. C'era con Michele un suo amico e questo è andato a telefonare alla Croce Rossa. Michele intanto è rimasto solo sul marciapiede. Era una strada dove c'erano tutti i magazzini ed erano chiusi a quell'ora, cioè le 10 di sera. Michele è morto al pronto soccorso alle 11 di sera. Quel suo amico ha telefonato a mia sorella Angelica. Sono andati a Bruges, mia sorella, suo marito e Osvaldo Ventura. L'hanno portato in Italia. Michele è stato sepolto ieri a Roma accanto a nostro padre, deceduto lo scorso dicembre, come forse lei ricorda. Osvaldo mi ha detto di scriverle. Lui è troppo sconvolto. Sono anch'io sconvolta, come lei può immaginare, ma cerco di farmi forza. La notizia è uscita su tutti i giornali, ma Osvaldo dice che lei certo non legge i giornali. So che lei voleva bene a mio fratello. So che vi scrivevate. Io e lei ci siamo conosciute a una festa in occasione del compleanno di Michele, l'anno passato. Io mi ricordo molto bene di lei. Abbiamo creduto di doverla informare della nostra immensa perdita. Caro Filippo, mi capita ogni tanto di pensare a te. Stamattina mi sono ricordata improvvisamente di un giorno che io e te siamo andati a Courmayeur con la tua macchina a trovare Michele che era là in un campeggio. Michele aveva allora forse dodici anni. Mi ricordo quando l'abbiamo visto davanti alla sua tenda, a torso nudo e con i piedi scalzi negli scarponi. Io mi sono rallegrata di vederlo così bene in salute, abbronzato, tempestato di lentiggini, le sue solite più mille altre. In città, certe volte era tanto pallido, usciva poco, suo padre non gli diceva di uscire. Siamo andati in giro con la macchina e a fare merenda in uno chalet. Tu eri di solito nervoso con Michele, non lo amavi. Lui non ti amava. Tu dicevi che era un ragazzino viziato, presuntuoso e capriccioso. Lui ti trovava antipatico, non lo diceva, ma era chiaro che lo pensava. Però quel giorno tutto è stato bellissimo, calmo, senza una sola parola cattiva tra voi due. Siamo entrati in un negozio dove vendevano oggetti turistici e cartoline. Tu gli hai comprato un cappello verde con la coda di camoscio. Era felice. Se l'è cacciato a sghimbescio sui riccioli. Sarà anche stato viziato, ma poteva essere felice con una cosa da niente. Nella macchina si è messo a cantare. Era una canzone che cantava sempre suo padre. Mi irritava di solito perché mi ricordava suo padre con il quale in quel periodo avevo acrimonie, ma quel giorno ero contenta e tutte le mie acrimonie mi sembravano leggere, dolci e respirabili. La canzone diceva non avemo ni canones, ni tanks, ni aviones o i carmela. Anche tu sapevi quella canzone e l'hai continuata. È il terror de los fascistas rumba la rumba la rumba là. Ti sembrerò stupida, ma ti ho scritto questa lettera per ringraziarti di aver cantato quel giorno con Michele e anche di avergli comprato il cappello con la coda di camoscio che ha portato ancora per due o tre anni. Vorrei anche pregarti di un favore. Se tu sai tutte le parole di quella canzone trascrivimele e mandamele per posta. Ti sembrerà strano, ma ci si attacca a desideri minimi e strani quando in verità non si desidera niente. Cara Angelica, sono a Leeds da ieri mattina. Ho dormito in una pensione che si chiama Hong Kong. Non puoi immaginare niente di più triste della pensione Hong Kong a Leeds. Quel ragazzo che ti aveva scritto e che si chiama Ermanno Giustiniani l'ho rintracciato e ancora lì all'indirizzo che aveva dato a te. È un simpatico ragazzo con un viso aguzzo e piuttosto pallido e un'aria damalese e di fatti mi ha detto che sua madre era di origine asiatica. Mi ha detto che Aileen e i figli sono ritornati in America. Non sa l'indirizzo. Di Aileen mi ha detto che era veramente una donna di grande intelligenza ma alcolizzata. Michele l'ha sposata proponendosi di salvarla dall'alcol. Questo gli rassomiglia perché lui amava essere chiamato a soccorrere il prossimo solo che la sua generosità era infeconda perché non aveva durata. Il loro matrimonio è andato in polvere dopo otto giorni. Per otto giorni sembravano felici. Lui non li ha conosciuti in quegli otto giorni. Li ha conosciuti dopo quando già era tutto praticamente finito. Ma gli hanno raccontato dei conoscenti che per otto giorni Aileen aveva smesso di bere e sembrava un'altra persona. Ermanno mi ha accompagnato alla casa di Nelson Road dove abitavano Aileen e Michele. Sulla casa c'è scritto For Sale cioè l'hanno messa in vendita. Così mi sono rivolto all'agenzia e ho potuto visitarla. È una piccola casa inglese a tre piani una stanza per piano ammobiliata con sordi di immobili finto liberty. Sono entrato in tutte le stanze. In cucina c'era ancora un grembiale che poteva essere stato di Aileen con disegni di pomodori e carote e un impermeabile che anche poteva essere stato di Aileen di saten nero con uno strappo nella manica. Ma sono tutte ipotesi. In una stanza c'erano alle pareti figure di biancaneve i sette nani e in terra una ciotola con del latte andato a male evidentemente lasciato lì da un gatto. Se ti descrivo così accuratamente queste cose è perché penso che ti è caro saperle. Di Michele non ho trovato nulla salvo una camiciola di lana usata come cencio da spolvero e appesa a una scopa e mi è sembrata una camiciola che lui un tempo si era comprata per l'inverno e infatti ho guardato e c'era la targa di Anticoli quel negozio in via della vite. Dopo un attimo di incertezza l'ho lasciata dove era io credo che non serve a niente conservare gli oggetti dei morti quando sono stati maneggiati da ignoti e si è svaporata la loro identità. La visita a questa casa mi ha lasciato immerso in una malinconia sconfinata. Sono qui nella stanza della pensione e vedo dalla finestra la città di Leeds una delle ultime città dove ha camminato Michele. Da questo simpatico ragazzo Ermanno Giustiniani con il quale ce n'erò stasera non riesco a sapere molto su Michele perché lui l'ha visto poco o lo ricorda poco o forse l'orattrista di parlarne a lungo con me è un ragazzo i ragazzi oggi non hanno memoria e soprattutto non la coltivano e tu sai che anche Michele non aveva memoria o meglio non si piegava mai a respirarla e coltivarla a coltivare le memorie ci siamo forse ancora tu tua madre e io tu per temperamento io e forse tua madre per temperamento e perché nella nostra vita presente non c'è nulla che valga i luoghi e gli attimi incontrati lungo il percorso mentre io li vivevo o li guardavo quegli attimi o quei luoghi essi avevano uno straordinario splendore ma perché io sapevo che mi sarei curvato a ricordarli mi ha sempre addolorato profondamente che Michele non volesse o non potesse conoscere questo splendore e andasse avanti senza mai voltare la testa indietro credo però che lui senza saperlo contemplasse questo splendore dentro di me e tante volte ho pensato che forse mentre moriva egli ha in un lampo conosciuto e percorso tutte le strade della memoria e questo pensiero è per me consolante perché ci si consola con nulla quando non abbiamo più nulla e perfino aver visto in quella cucina quella maglietta cenciosa che non ho raccolto è stata una strana gelida desolata consolazione per me questo era caro Michele istintivamente non ci viene da associare alla figura di Natalia Ginzburg la figura non so di Pasolini o di Calvino rispetto all'impegno pubblico alla presenza sui giornali ma è un difetto di vista di prospettiva perché Natalia Ginzburg pur con la sua voce sottile pur con la sua figura così pudica è stata invece molto presente sui giornali e ha preso anche posizioni di profondo anticonformismo ha pubblicato tantissimi articoli sulla stampa sul Corriere della Sera ha collaborato con le grandi riviste testate nazionali non raccontando soltanto quello che andava vedendo film libri che leggeva prendendo posizioni che potevano sembrare centri che non so c'è un pezzo famoso in cui lei raccontava la sua insofferenza per Dario Fo oppure va a vedere Amarcord di Fellini e si accorge che in fondo è un film sulla nebbia e che nessuno ha raccontato mai così bene la nebbia e la neve era una voce quindi molto personale questo è il tono che dava i suoi pezzi e anche quando prendeva posizioni radicali non so se qualcuno di voi ricorda un dibattito che è stato uno degli ultimi a cui lei ha partecipato sull'inizio degli anni 90 sulla storia di un'adozione molto controversa Serena Cruz o la vera giustizia quando prendeva posizioni anche radicali dicevo le prendeva con un tono che era diverso di una persona che cercava di sollecitare domande di cambiare la prospettiva sulle cose una delle sue intervistatrici è stata Oriana Fallaci che come sapete aveva invece un atteggiamento e un piglio sempre molto polemico con i suoi intervistati è una delle interviste forse più belle che ha scritto alla Fallaci perché va dalla Ginzburg quasi reverente e la descrive così una donna non bella vestita di un golfino bluette di una gonna bluette l'aria un po' goffa di certezzie cui si ha sempre un favore da chiedere e di cui non si conosce l'età ecco dietro questa figura in realtà c'era un temperamento molto molto energico di una donna che non solo aveva come vi dicevo prima superato sofferenze inenarrabili ma che poi aveva avuto anche il coraggio di ricominciare e di prendere sempre posizioni molto precise quando raccontava se stessa sui giornali lo faceva in un modo sempre spiazzante i giornali lasciavano spazio a queste sue divagazioni e nelle raccolte più note di questi interventi troviamo che vi posso dire una storia dei rapporti umani proprio una storia dei rapporti umani nella vita di chiunque come forse nessuno ha mai scritto lo trovate nel libro Le piccole virtù una riflessione che dà il titolo a quel libro Le piccole virtù sull'educazione bisogna insegnare ai figli non le piccole diceva lei ma le grandi virtù un ritratto di Pavese forse la cosa più bella che sia mai stata scritta di Pavese per 15 pagine non lo nomina mai e si intitola ritratto di un amico un ritratto di Calvino poco dopo la morte si intitola il sole e la luna lei vede Calvino con la testa fasciata all'ospedale di Siena e pensa che forse anche quella testa fasciata è un segno quando cerca di intervenire sulla realtà mette sempre il filtro del proprio io ed è questo una delle ragioni per cui Nanni Moretti ha scelto un testo che sembra laterale ma che racconta il rapporto di Natalia Ginzburg con la psicanalisi lei l'ha inserito in una raccolta di tre racconti nel 1980 e anche stavolta la prospettiva su quella che è stata forse la scienza non scienza del novecento europeo e internazionale una prospettiva tutta di Natalia Ginzburg c'è un'ultima cosa che voglio dire che la dice lei stessa in quel testo a cui facevo riferimento il mio mestiere lei diceva così forse per eccesso di understatement so di essere una piccola scrittrice ma so anche e questo mi consola che nessuno ha una voce come la mia un tempo ricorsi alla psicanalisi era estate era l'immediato dopo guerra vivevo a Roma era un'estate affosa e polverosa il mio analista aveva un appartamento nel centro andavo da lui ogni giorno alle tre mi apriva lui la porta aveva una moglie ma non l'ho mai vista nel suo studio c'era penombra e frescura il dottor B era un uomo anziano alto con una coroncina di riccioli argentei piccoli baffi grigi spalle alte e un po' strette aveva sempre camicie immacolate col collo aperto aveva un sorriso ironico e un accento tedesco aveva al dito un grosso anello d'ottone con iniziali mani bianche e delicate occhi ironici lenti d'oro mi faceva sedere a un tavolo e sedeva davanti a me c'era sempre per me sul tavolo un gran bicchiere d'acqua con un cubetto di ghiaccio e una scorza di limone allora nessuno a Roma aveva il frigorifero chi voleva ghiaccio lo faceva venire dalle latterie e lo rompeva a colpi di martello come facesse lui a procurarsi ogni giorno quei cubetti di ghiaccio così levigati e terzi è rimasto un mistero per me forse avrei potuto domandarglielo ma non glielo ho mai domandato sentivo che di là dallo studio e di là dal piccolo ingresso che conducevo allo studio il resto della casa era e doveva essere avvolto nel mistero il ghiaccio e l'acqua venivano dalla cucina dove forse l'invisibile moglie aveva preparato quella bevanda per me l'amica che mi aveva suggerito di andare dal dottor e che ci andava lei stessa non mi aveva detto molto di lui mi aveva detto che era ebreo junghiano e tedesco il fatto che fosse junghiano a lei sembrava una cosa positiva a me era indifferente perché avevo nozioni confuse sulla differenza tra jung e freud anzi un giorno pregai il dottor B di spiegarmi questa differenza si diffuse in spiegazioni e io a un certo punto persi il filo distraendomi a guardare il suo anello d'ottone i ricciolini argentei sulle sue orecchie e la fronte dalle pieghe orizzontali che egli tergeva con un fazzoletto di lino candido mi parve d'essere a scuola quando chiedevo spiegazioni e poi mi perdevo a pensare ad altro mi dava un'enorme noia pensare che dovevo dargli dei soldi se mio padre avesse saputo non solo della mia analisi ma anche di tutti i soldi che spendevo col dottor B avrebbe gettato un urlo da far crollare una casa ma non era tanto l'idea dell'urlo di mio padre a darmi disagio era il pensiero che pagavo con dei denari l'attenzione che il dottor B dedicava alle mie parole pagavo la sua pazienza con me benché sapessi d'essere io la paziente trovavo lui molto paziente con me pagavo la sua ironia il suo sorriso il silenzio e la penombra di quello studio pagavo l'acqua e il ghiaccio nulla mi veniva dato per nulla e questo io lo trovavo insopportabile glielo dissi e mi rispose che era previsto lui sempre aveva previsto tutto non lo coglievo mai di sorpresa tutte le cose che gli raccontavo di me le sapeva da lungo tempo perché altri le avevano sofferte e pensate questo mi irritava ma nello stesso tempo mi dava un grande sollievo perché quando avevo pensato a me stessa in solitudine mi ero trovata a volte troppo strana e sola per avere qualche diritto di vivere poi c'era un'altra cosa che mi sembrava assurda tra me e il dottor B ed era l'unilateralità dei nostri rapporti se il fatto dei denari mi faceva rabbia questa unilateralità mi sembrava creare tra noi un disagio profondo e irrevocabile io ero tenuta a parlare di me ma non sarebbe stato per nulla legittimo che a mia volta mi dessi a interrogarlo su di lui non lo interrogavo perché sul momento non mi veniva in testa di interrogarlo e perché mi sembrava di dover usare nei riguardi della sua esistenza privata la massima circospezione e discrezione ma uscendo di casa sua cercavo di immaginarmi sua moglie le altre stanze dell'appartamento e la sua vita fuori dell'analisi trovavo che dai nostri rapporti era escluso qualcosa d'essenziale cioè la reciproca pietà anche quell'acqua che mi dava da bere ogni giorno non era destinata alla mia sete faceva parte di un cerimoniale stabilito chissà da chi e chissà dove e al quale né lui né io potevamo sfuggire in questo cerimoniale non era lasciato alcun posto per la pietà io non ero tenuta a saper nulla né dei suoi pensieri né della sua vita e se lui scrutando la mia anima e la mia vita aveva forse pietà di me questa sorta di pietà unilaterale e che non riceveva in cambio nulla se non danaro non poteva assomigliare in nulla alla reale pietà la quale porta sempre in sé una possibilità di dedizione reciproca e di risposta è vero che eravamo una paziente e un medico ma la mia malattia se esisteva era una malattia dell'anima le parole che correvano fra noi tutti i giorni riguardavano la mia anima e a me pareva che in un simile rapporto non potesse mancare una scambievole amicizia e pietà e tuttavia sentivo che la pietà e l'amicizia non potevano essere ammesse in quello studio e se di loro appariva un pallido spettro era opportuno bandirlo dai nostri colloqui una volta lui si offese con me e questo mi sembrò comico avevo incontrato per strada una ragazza che conoscevo e che sapevo si faceva analizzare da lui avevo a poco a poco scoperto che andava da lui un mucchio di gente che conoscevo questa ragazza mi disse che facevo male a farmi analizzare io che scrivevo perché l'analisi avrebbe sanato il mio spirito ma ha ucciso in me ogni facoltà di creazione lo raccontai al dottor B arrossì e si arrabbiò non l'avevo mai visto arrabbiato non avevo mai visto nel suo sguardo che l'ironia e il sorriso battesse sul tavolo la sua bella mano bianca con l'anello e mi disse che era falso e che quella ragazza era una stupida se avessi fatto l'analisi con un freudiano mi disse poteva forse accadermi di perdere il desiderio di scrivere ma lui era uno jungiano e perciò questo non mi sarebbe accaduto anzi avrei scritto libri migliori se fossi arrivata a conoscere meglio me stessa si diffuse a spiegarmi la differenza tra Jung e Freud persi il filo della sua spiegazione e mi distrassi e ancora adesso non so con chiarezza quale sia la vera differenza fra Jung e Freud se c'è qualcuno grazie grazie se c'è qualcuno che vuole qualche firma o foto io sono laggiù in quell'angolo là per qualche minuto grazie se mi date il microfono abbiamo una sorpresa per lei intanto la vogliamo ringraziare per questo regalo che ci ha fatto per averci fatto ricordare Natalia Ginzburg dopo insomma i cento anni alla sua nascita allora siamo a Futura Festival Futura racconta prova a raccontare a indagare il futuro e ha istituito un premio che si chiama esploratori del futuro e qui al mio posto in realtà avrebbe dovuto esserci Gino Trolli il direttore artistico che lei ha conosciuto poco fa ma come Michele ha il cuore in disordine quindi non è qui ora però la saluta e la ringrazia e per cui avrebbe voluto insomma come dire queste mie parole in realtà dirle lui per ringraziarlo intanto di essere venuto a Civitanova di essere venuto a Futura Festival perché per noi è veramente insomma è stato un grandissimo un grandissimo piacere veramente un grandissimo piacere il premio si chiama esploratori del futuro accanto a me ci sono il sindaco e il vice sindaco assessore della cultura che glielo vogliono consegnare e io se permette leggo aiuto il foglio che vola la motivazione che ovviamente è stata scritta da Gino Trolli per cui do voce al suo pensiero premio esploratori del futuro 2016 a Nanni Moretti con la seguente motivazione per il contributo di originalità di rinnovamento del linguaggio filmico di continua capacità di rottura di schemi forme strutture superate che hanno permesso al cinema italiano di raggiungere attraverso la consagrazione di premi conquistati nei più grandi festival internazionali l'affermazione di una nuova concezione dell'opera cinematografica contro lo stereotipo del nostro cinema più tradizionale per lo sguardo al futuro mai domo sempre in avanti critico e problematico Ananni Moretti prego lei ha ricevuto premi importantissimi il nostro è un premio legato al tempo è un orologio per cui è un premio piccolo però veramente insomma sempre è pieno di affetto la ringraziamo tanto grazie a voi grazie a tutte a tutti grazie grazie a tutti